la proclamazione degli eletti ai sensi dello statuto come non è ora, ma che sono i cinque stelle c'è un contatto e quindi benissimo ma è un contatto ma prendiamo altro e stiamo a nessuna fede non avevo visto che l'ho scusa c'è un mondo contatto ma andiamo a partire stupendo debba rivestire il ruolo di segretario nazionale di Forza Italia alzino il loro cartellino prima di dare la parola a Antonio sempre per rispettare lo statuto vorrei guardare con i miei occhi se c'è qualcuno che alza il cartellino per la non approvazione chi si attiene nessuno caro Antonio ti tocca fare il primo segretario nazionale di Forza Italia complimenti e quindi a nome dell'Officio di Presidenza e a nome Antonio di tutti i delegati di tutti i nostri amministratori di tutti quanti i nostri forcisti sotto gli occhi vicini sicuramente di Silvio Berlusconi che ci osserva dall'alto a te la parola grazie 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 di cuore grazie anche per la vostra riscione però fatelo vedere pure fatelo vedere gli altri grazie 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 di cuore grazie per la fiducia che mi avete concesso grazie per la stima grazie per l'amicizia grazie per l'entusiasmo che avete dimostrato grazie 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 grazie